Per arrivare nell'azienda di Michele Verdi si percorre un piccolo viale. Qualche mese fa si presentarono qui dei possibili compratori che per soli 24.000 euro avrebbero potuto comprare dal tribunale tutta la sua impresa agricola e con essa pure la sua casa. Michele non ce l'ha fatta a reggere il peso e ha deciso di compiere un gesto estremo. Siamo nelle campagne della terza, oggi dell'azienda di Michele resta ben poco, qui si produceva il latte per i caseifici della zona, i terreni, gli animali, la vita di campagna e un'esposizione debitoria di poco più di 40.000 euro a fronte di un valore dei beni valutato in quasi 350.000 euro. Era un grande uomo, un uomo dal cuore generoso, aiutava tutti ma lui non chiedeva mai aiuto. Anche stavolta lui non ha voluto chiedere aiuto e neppure coinvolgere la sua famiglia, coinvolgere voi. Sì, ci ha tenuto fuori da tutto. La masseria per ora è salva e non sarà messa all'asta. Ad oggi l'azienda non va più all'asta, abbiamo raggiunto un accordo con città di recupero crediti, grazie anche alla dottoressa Zanna che ci ha dato un lungo tempo e fino ad ottobre prossimo vendita avremmo sanato l'esposizione debitoria e stinto la procedura. Tutto questo è stato possibile grazie al movimento legalità che ha messo insieme un gruppo di persone che hanno messo mano al proprio portafoglio. Bisogna stare vicino soprattutto ai piccoli imprenditori che spesso non stanno a dove rivolgersi, come l'esempio di questo povero Michele. Grazie all'associazione poi a livello privato l'abbiamo aiutato personalmente a fare in modo che questa masseria non andava a finire nelle mani degli altri. Però queste cose non devono più accadere, l'istituzione, la politica deve stare più vicina a questi problemi anche e soprattutto ascoltarli un po' di più.